Per l'area di Taranto lo sviluppo economico, la crescita economica del territorio deve necessariamente passare attraverso il turismo. La nostra città Taranto e la sua provincia godono davvero di ricchezze naturali, storiche, di un patrimonio enorme. Ne parliamo con il dottor Vito De Palma, candidato al Consiglio regionale con Forza Italia. Il settore del turismo è un settore sul quale oggi sarebbe da sciocchi non investire. Taranto e la sua provincia hanno la possibilità di fare il salto di qualità. Ultimamente io vengo da una comunità, quella di Ginose, che per anni si è freggiata della bandiera blu e di altri riconoscimenti, ma ho sempre sostenuto che la bandiera blu per un comune soltanto non aveva alcun senso se non attraverso un sistema di rete. Oggi altri comuni hanno conseguito la bandiera blu. Io penso che il sistema turistico debba fare il salto di qualità e volare alto. Attraverso che cosa? Attraverso la valorizzazione, secondo me, anche dell'attività portuale, dal punto di vista non solo commerciale ma dal punto di vista turistico. Se Taranto comincia ad intercettare le crociere di grande elevatura, noi oggi riusciamo a far fare il salto di qualità al nostro territorio. Il nostro territorio non è secondo ad altre province. Anzi, al contrario, lo dicevi tu, poc'anzi dal punto di vista archeologico, dal punto di vista storico, veramente vi è la possibilità di coniugare un vecchio dalle gravine al mare, dicevamo nel passato. Oggi noi questa cosa lo possiamo fare dalle gravine al mare attraverso la città di Taranto e il capologo di provincia che tanto può dare a tutta la provincia stessa. Grazie a tutti.